quando dobbiamo andare a salvare il nostro progetto abbiamo una sola opzione come in tutti i software quello di fare file salva o salva con nome nel caso in cui facessimo salva per la prima volta ci chiederà dove salvare il nostro file i progetti adobe after effect si compongono di di un solo ed esclusivo file che noi possiamo tranquillamente salvare nella posizione che più riteniamo opportuna da considerare che se noi abbiamo molti elementi allegati all'interno del nostro progetto quindi importati questi non verranno salvati insieme al progetto quindi bisogna sempre mantenere una certa gerarchia un certo ordine all'interno delle nostre cartelle progetto per non perdere elementi necessari alle nostre composizioni mentre stiamo lavorando una cosa che possiamo fare e che io consiglio a molti di fare è quello di fare una salvataggio di una copia del nostro file alle volte purtroppo after effect non è esente da bug quando andiamo a salvare un file potrebbe capitare per un qualsiasi motivo che questo file sia corrotto così come buona norma io al termine di una sessione di lavoro oltre a salvare il mio progetto ne salvo una copia come andando su file salva come possiamo sia salvare come e quindi aggiungere un altro nome al nostro file ma abbiamo la possibilità di salvare una copia così facendo noi salveremo un file uguale soltanto con il nome copia vicino possiamo anche cambiare possiamo anche personalizzare il nostro nome e salvarlo così facendo sarà salvata una copia del nostro progetto molto comodo quando si lavora a progetti complessi e c'è bisogno di avere una copia di backup ma after effect ci viene anche incontro in questo e se andiamo nel menu delle preferenze su mac si clicca sul nome del programma preference e abbiamo tutto il menu delle preferenze oppure su windows possiamo andare in file e troveremo il menu delle preferenze possiamo premere su una qualsiasi voce perché ci si aprirà un pannello che poi le racchiude tutte queste sono tutte le voci delle preferenze di after effect quella che in questo caso voglio mostrarvi il pannello dell'auto save di base possiamo decidere che after effect salvi il nostro progetto ogni 20 minuti in automatico possiamo andare a personalizzare questo parametro ad esempio aggiungendo mettendo 15 minuti lui ogni 15 minuti anche se noi non abbiamo salvato quindi fatto file salva o command save o c3ls lui ogni 15 minuti salverà il nostro file un'altra cosa che farà possiamo decidere se salvare quando parte la nostra coda di render questo perché può capitare che per una serie di conflitti durante un render molto complesso possa andare in crash il software e allora per evitare ciò possiamo selezionare questa voce che ci salva il nostro progetto nel momento in cui andiamo a premere il pulsante di render quindi prima che parta la coda di render lui salverà il nostro progetto quando adobe after effect realizza un salvataggio incrementale che adesso vi faccio vedere possiamo decidere quante versioni possono esserci in questo caso ne sono selezionate 5 ma ne possiamo anche decidere che ne siano 8 e possiamo decidere se la location cioè dove viene salvato il nostro file sia a fianco al nostro progetto o in una cartella personalizzata quindi decise da noi che andando su file troveremo oltre a salva salva come incrementa e salva con questo pulsante noi cosa faremo andremo a salvare il nostro file e non solo andremo a salvarlo e a crearne una copia incrementale facendo quest'operazione ripetendolo a più volte possiamo arrivare fino ad otto quindi fare file incrementa e salva così facendone generato una terza copia dato che noi ne abbiamo selezionate impostate come preferenza otto lui salverà otto versioni e poi ricomincerà a cancellare la prima fino a raggiungere nuovamente l'ottava di base questo valore è 5 ed è più che giusto che vengono salvate un massimo di 5 copie